Ben ritrovati qui nella nostra rubrica si può fare questo luogo speciale dove attraverso l'uso di libri, qui ne vedete una piccolissima parte, raccontiamo ai bambini quelli che per noi adulti a volte sono dei temi scomodi e sono così tanto scomodi che spesso non se ne parla o ci generano delle reazioni che rimangono lì. Oggi rispetto al solito in cui credo di essere un po' più, come dire, accondiscendente, cerco di accompagnarvi al senso, oggi sono un po', devo trovare l'aggettivo giusto, un po' più bacchettona, forse dovrei dire un po' più arrabbiata, ma cerco di non dimostrarlo. Oggi è un libro assolutamente di una provocazione molto palese per voi genitori ed è impossibile. Impossibile è un libro molto semplice che dovremmo leggere noi genitori, non dobbiamo leggerlo ai bambini, mentre di solito vi do dei libri per bambini che è bene leggere noi e poi leggere insieme avendo messo noi pensieri in circolo, sapendo che cosa dire in quel momento, che domande fare per trattare quel tema. Questa volta il tema scomodo è per noi adulti e rimane per noi adulti perché è un bambino, secondo me, a poco senso che legga questo libro. Impossibile. Impossibile parla la storia di due neogenitori che si trovano, come tutti noi, impreparati davanti a questo meraviglioso evento della vita, che tutti ci raccontano essere gioioso, ma poi quando ci si trova dentro si sa che questa gioia a volte bisogna un po' cercarla in quei momenti meravigliosi perché c'è tanta fatica. E c'è un continuo anche pensare, questo ve lo dico come madre, come professionista, perché è importante che voi che mi vedete sappiate, no? Chi sono e quello che faccio perché questo porta una credibilità in quello che si dice, in quello che si fa, è dire ma quando crescerà perché sono veramente stanca, siamo veramente stanchi e quanto la coppia, soprattutto in un certo periodo, nello 0-3 prevalentemente, si ha molto messa alla prova. Ti alzi tu di notte, mi alzo io, il biberonio glielo dai tu, glielo dai io, non si vuole fare il bagnetto, farlo tu, le unghie tagliali tu, chi lo fa? Sei costantemente dietro dei giusti a compiti di cura. Ad un certo punto questi due genitori sono talmente sfiniti per cui leggono di una meravigliosa tata come la tata Lucia dei nostri programmi, in questo caso si chiama Signora Meridiana, che risolve tutti i problemi familiari, di salute e finanziari. Allora mi sono messa l'orecchio di su questa pagina in cui loro dicono a questa signora vorremmo che Toribio fosse diverso, ma pare sia impossibile, dice il papà. Quante volte abbiamo pensato e desiderato che nostro figlio fosse diverso, ma è inteso in un aiuto nell'accompagnarlo, perché lui stia meglio. Questo io lo sento a volte molto poco, anche in studio molto spesso le presentazioni delle situazioni dei bambini è in che in quel diverso è quel bambino, il mio bambino cambi, così noi stiamo tutti bene, con poco nesso tra forse quello che fa il mio bambino è anche, perché poi sappiamo quanto c'è di genetico, epigenetico, di caratteriale e altro, che fanno che ognuno di noi sia unico. Però molto spesso dimentichiamo l'influenza del tutto sistema relazionale, ambientale e facciamo fatica a dirci quel bambino forse così anche in conseguenza. Quindi, dottoressa, venite e cambiate questa situazione. Questa signora, che invece ha ben colto il significato della parola diverso, che prendiamo qualsiasi dizionario, ha un'unica definizione, da loro la modica cifra di 200 euro, e quindi non lamentatevi quando venite ai colloqui da noi, da me, che possono essere cari perché costano molto meno, sono 200 euro da una pozione da mettere sul letto di questo bimbo. Che cosa succede? Che quando questi genitori si svegliano al mattino sconvolti di aver dormito tutta la notte e confermo che c'è la prima volta uno sconvolgimento in questa direzione, si accorgono di non avere più un bambino, ma di avere un gatto al quale possono fare tutte quelle cose che hanno chiesto alla signora. Fagli il bagnetto con calma, potergli tagliare le unghie, dagli da mangiare tutto fuorché proteine, hanno avuto quello che desideravano. Quindi questa bella provocazione che vi ho voluto dare ci metta noi genitori in moto che forse ad un certo punto abbiamo bisogno noi di affrontare le nostre fatiche per poter poi aiutare i nostri bambini ad un cambiamento che faccia stare bene tutti, perché se siamo una famiglia, un insieme di relazioni che coesistono e coinvivono, c'è bisogno che qualcuno dia e in quel momento qualcuno torni indietro e così, tutto in un gioco di equilibri precari, ma ne dobbiamo avere la consapevolezza. Quindi vi saluto con questo, ci vediamo qui nella nostra rubrica con un prossimo video. A presto!